ciao a tutti nuovo video su un acquisto che ho fatto e questo con video principale su la compagno che mi arrivato settimana ma vi faccio vedere due cosette che ho comprato da hm la scorsa settimana allora questi pantaloni grigi è un grigio un po più scuro di quello che vedete li ho pagati 19 95 sono a sigaretta con il i2 non so come si chiamano e il bottone sono ma di in bangladesh mi pare che sono tutte cose riciclate non riesco a vederlo un attimo poi essere però che sono molto bene se con le scarpe basse che con le scarpe alte e poi ho preso anche una camicia nera che mi mancava questo l'ho pagata sui 27 o 29 camicia nera di saten tipo maniche lunghe con tutta bottonata semplicissima questo l'ho presa un po più larghina perché a me non piacciono le cose strette sette strette e questi sono i due acquisti che fatto su hm invece il video principale era su un acquisto che ho fatto su etsy la prima volta che compro su etsy perché mi sono ho voluto comprare una cosa di vivienne westwood allora per prima cosa ho cercato le borse ma costano un casino ho cercato anche su vintage ma quelle che costano un po di meno non mi piacciono quindi sono passata le collane c'erano due collane a 50 euro su vinted ma non mi convinceva molto chi la vendeva perché non c'erano né foto né indirizzo né fotoprofilo quindi non ho voluto prenderla lì quindi ho fatto un po di ricerche su internet e mi sono usciti dei negozi su etsy e ho trovato questo non so se sia ragazzo o ragazza di new york mi è arrivato in neanche una settimana no una settimana penso e c'erano due possibilità o riceverla solo la collana oppure con la scatolina il sacchettino tutto originale e io ho scelto la seconda e in tutto ho pagato 32 euro con peso di spedizione la collana originale mi pare cosa su 200 quindi sperando che mi duri che non si rugginisca o altro ho fatto una farone non mi ricordo assolutamente il profilo del ragazzo ma mi ha lasciato anche il bilettino dentro quindi adesso ve lo faccio vedere è arrivato in una scatolina di cartone allora è arrivato con il sacchettino vivian westwood con anche i manici come se l'avessi comprato nel negozio ecco il bigliettino mi ha scritto thank you e qua c'è scritto di andare sul profilo su etsy e votare caro cliente grazie per l'ordine nel mio store qui si deve andare nell'account selezionare you e mettere le 5 stelle però non c'è scritto il nome quindi io non me lo ricordo posso metterlo qua sotto nel video poi è arrivato con anche la bustina con il come si chiama che sembra per gli occhiali da pulire gli occhiali ma questo per pulire i gioielli la pezzina poi è arrivata la scatola eccola qui vivian westwood uguale al sacchettino grigio apriamolo apriamola apriamola la scatola tutto è tutto su ok è arrivato con il fiocchettino con il simbolo di vivienne eccolo qua la collana e c'è anche il sacchettino di stoffa per metterla dentro ecco vi faccio vedere la collana allora ecco dentro questo sacchettino sempre firmato vivienne allora adesso provo ad aprirlo sperando di non rompere niente ok ed ecco la collana allora ve lo metto sul tavolo allora è fatta di perle di cetone originali va bene con la chiusura con il nome poi c'è il suo simbolo e anche la la spilla da baglia molto carina sembra vera infatti sono soldi e spese secondo me devo ancora provarla però mi piace molto qui c'è il gancetto con anche il simbolo nel gancetto si mette a fuoco e anche il simbolo nel ciondolino con il nome non mi piace molto dovrò poi abbinarla sciogliere come metterla eccolo qui e fa anche c'è molti tipi di collane senza la spilla ma solo con il ciondolo non con le perle ma con la caterina normale sia d'oro che argento e basta ci sono queste tipologie e potete scegliere solo la collana oppure con tutto il pack che vi ho fatto vedere ma tra mi pare che solo la collana 20 e qualcosa mi pare una decina di euro di differenza quindi ho detto ma si per 10 euro è come se l'avessi comprata nel negozio ok per questo video è tutto mettete un pollice lì in su e iscrivetevi al mio canale ciao ciao